Il suo rombo ricorda facce piene di polvere che indossavano occhiali da corsa e caschi non omologati. Lo sguardo di un falco per i figli come quello di Tazio Nuvolari o quello pacioso di Enzo Ferrari pilota Alfa Romeo prima di essere costruttore di bolidi. L'Alfa 1500 6 cilindri del 1929, tra le prime classificate alla 1000 miglia del 1931 e del 1932, dotata di un primordiale turbocompressore e di una avveniristica pompa dell'acqua, sarà una delle reginette in mostra per tutta domenica 30 settembre all'Historic Day, rassegna di auto e moto storiche con fulcro in piazza dei signori ma che occuperà un po' tutto il centro, con un ospite speciale che arriverà a mezzogiorno. Sì, quest'anno avremo l'onore di ospitare la Presidente del Senato, la Senatrice Casellati, che viene a ritirare questo primo premio indetto dell'ASI, l'automotoclub storico italiano, nella giornata del motorismo storico. Tra le belle e impossibili ci sarà anche di Zotta Fraschini 8B di Rodolfo Valentino, ma all'Historic Day vi sarà spazio anche per le auto storiche delle famiglie, accreditandosi in Campomarzo. Avere un'auto storica in casa è un momento di passione innanzitutto e di ricordo. Il primo passo per avere un'auto storica in casa è ricordarsi quando si erano bambini e si venivano queste macchine in maniera anche fascinosa che sfilavano per le città, sognando di poterle un domani possedere. Questo è il primo passo. Poi c'è tutto un momento invece storico di collezionismo vero e puro, come c'è il collezionismo in qualsiasi altra arte. Teniamo presente che le acchine di inizio secolo, soprattutto anni 20 e 30, sono delle vere e proprie sculture su quattro ruote. Perché il piacevole viaggiare su un'auto storica ti riporta a un modo di viaggiare che ormai abbiamo completamente dimenticato. Oggi andiamo dal punto A al punto B nel più breve tempo possibile, più in fretta, perché dobbiamo correre. Non vediamo cosa ci ha raggiunto della strada, perdiamo completamente il paesaggio e il piacere di viaggiare. Forse le auto storiche ci riportano a questo piacere.